Nasce il nuovo sindacato Carabinieri. Tale sindacato nasce proprio per affrontare tutte le problematiche che sono vissute quotidianamente dagli appartamenti all'arma dei Carabinieri, soprattutto in questo periodo legato all'emergenza del Covid-19. Alessandro Ragucci, in servizio presso il comune di Montano Antilia, è stato nominato segretario provinciale. A tal proposito l'abbiamo avuto ai nostri microfoni. Bentrovati, mi chiamo Alessandro Ragucci e vi comunico che anche in Campania è nato il nuovo sindacato Carabinieri, una nuova realtà che intende affrontare tutte le problematiche e venire incontro ai Carabinieri di ogni ordine e grado. In Campania il nuovo sindacato può contare su una segreteria regionale di cui segretario è Vincenzo Medico Nocita e supportato dalle segreterie provinciali di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno. Salerno di cui mi onoro di essere segretario insieme a Mattia Marchiorri, il mio segretario aggiunto. Ringrazio ovviamente la segreteria nazionale, in particolare il segretario Massimiliano Zetti e tutta la segreteria regionale per la fiducia che ci ha accordato. Vi comunico che questa segreteria è subito partita a lavorare affrontando un tema attuale che è quello dell'emergenza Covid e in particolare andando ad affrontare alcune problematiche legate al servizio che quotidianamente viene chiamata a svolgere il personale dell'arma. La nostra segreteria provinciale come ho detto è composta da me che provengo dalla linea forestale e da Mattia Marchiorri che proviene dalla linea territoriale. È stata fatta apposta una scelta di comprendere queste due linee proprio per affrontare i problemi di tutti i carabinieri impegnati quindi senza lasciare nessuno solo. Colgo l'occasione per segnalarvi il nostro indirizzo email che è nsc.segreteriasalerno-gmail.com il mio numero di telefono 333 2966605 e vi invito a consultare anche la pagina Facebook del nuovo sindacato Carabinieri Campania con la quale possiamo confrontarci ed è possibile visionare tutti i comunicati sia documentazione che i comunicati che vengono fatti da tutta la segretaria regionale e da quelle provinciali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito tutti a partecipare all'iniziativa e essere vicini come noi vogliamo essere vicini a tutti i carabinieri che prestano servizio in Campania e in particolare nella provincia di Salerno. Grazie a tutti voi e buon lavoro.